ok allora voglio parlare adesso di questa superficie che ho messo qua e questo questo terreno che penso che ho visto che un paio hanno già fatto questo questo terreno che comunque una cosa utile sempre comunque per posizionarlo nel nel posto giusto e possiamo possiamo crearlo facilmente allora questo si può creare o utilizzando i punti che possiamo individuare noi il terreno che posso individuare alcuni punti dicendo che hanno la quota tot ovviamente il x y in planimetria si può prendere si può fare usando una vista dall'altro posso dire questo punto c'è la quota tot quindi posso indicare in planimetria dove sta e poi la quota la posso inserire io e quindi posso inserire vari punti che vedo magari in planimetria che c'ho o può essere anche una cosa approssimativa se non mi interessa tanto il discorso della precisione e poi anche posso importare dei file esterni che contengono punti che possono creare il terreno in automatico se è un terreno scansionato che c'è una nuvola di punti o c'è un rilievo topografico quindi posso fare in qualche modo una cosa un po' automatizzata allora adesso per creare questo noi nel nostro caso non abbiamo informazioni topografici informazioni topografici però comunque nel nel nostro nel nostro progetto si vede dove abbiamo diciamo le quote più alte più basse praticamente tutto quanto ad altezza zero noi abbiamo considerato che lo zero è questo e questo piano quindi praticamente è un po' sotto zero questo qua o possiamo considerarlo anche zero qui scende al livello dell'interrato del piano interrato quindi poi sale qua quindi possiamo anche usare la sezione per vedere come come l'andamento del terreno ok ricordatevi che qua dietro vedete come scende qui per per arrivare al piano interrato ovviamente qui si illumina anche questo piano facendo questo questo lavoro ok allora quello che dobbiamo fare qua è andare a creare questo terreno ok allora se andiamo su massing and site c'è la superficie topografica che può essere creata posizionando dei punti quindi adesso lo faccio di lato più semplice e vediamo come possiamo fare allora faccio questi quattro punti ok ho creato una superficie piana adesso perché quando ho fatto place point lo faccio ok lo faccio ok riprovo place point guardate elevation quindi l'altezza e la quota di questo punto adesso tutti i quattro punti che ho creato prima sono stati creati sul piano zero ok sul livello zero allora questo lo chiudo e torno a quella mia se vado in 3d vedete questa è una superficie piana se voglio modificarlo seleziono questa superficie edit surface e qui posso aggiungere altri punti o posso selezionare questi punti e posso cambiare la quota qua quindi questo vertice qua deve avere la quota di 3 metri ok faccio apply guardate che succede allora lui mi la alza e mi dà le curve di livello ok queste curve di livello ovviamente 3 metri qui mi la fa ogni metro quindi vedo questa queste curve di livello quindi se se voglio alzare il punto basta selezionarlo e dare l'altezza giusta ok quindi questo probabilmente può essere meno 3 ok vedete che fa allora se voglio una cosa un po' più complessa posso andare su place point dentro modify edit surface posso cliccare sopra creando nuovi punti e questi punti possono avere l'altezza quella che decido qua quindi ho un metro ok 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 meno 2 ok ovviamente questa è un po' strano questo terreno che questi sono più alti di questo qua quindi questo è il punto più basso e questo ancora meno 3 quindi qui posso decidere com'è l'andamento secondo questi punti allora la cosa utile da fare nel caso nostro questo faccio ok e seguire l'andamento del terreno quello che abbiamo visto dalle foto o quello che si vede delle linee di livello delle curve di livello in planimetria vedete in planimetria qualche curva di livello ce l'abbiamo ok vedete come ovviamente non so non penso che sono così precisi però comunque più o meno si capisce come l'andamento allora per non avere cose strane o diciamo difficoltà nella modellazione dobbiamo fare così guardare questo terreno allora immaginate se io lo voglio fare faccio questi 4 ok questi in basso qua ce l'ho a meno 3 giusto perché il distivello di 3 metri quindi adesso seleziono questo vertice posso fare tutte e due insieme e scrivo meno 3 ok ok applai questi due sono più 3 quindi ops scusate va bene giusto allora guardate sono 6 curve lì di livello 6 livelli da qui a qui allora se l'andamento è questo qua quello che vedete qua vedete come ho spinto un po' la curva verso l'alto usando dei punti di controllo più punti di controllo questo punto lo posso mettere decidendo che adesso lui mi ha distribuito in distanze uguali tra un livello curva di livello e l'altro perché questo praticamente è una linea dritta se vado a modificarlo mettendo altri punti di controllo per esempio questo più 3 voglio decidere quale curva di livello ha del più 2 quindi faccio 2 vedete posso dire che 2 sta qua 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 ok poi 1 ok poi 0 0 sta così ecco sempre 0 allora se voglio posizionare qui il mio la mia struttura quindi qui deve essere orizzontale il pavimento diciamo il terreno quindi faccio sempre rimango con lo 0 ok adesso voglio meno 1 ovviamente posso anche scegliere numeri diversi non solo questi meno 1 meno 2 ok faccio ok allora vado qui in 3d vedete come questo terreno adesso ha questa parte che è più o meno orizzontale e qui si alza e qui si abbassa ok allora questo nostro caso è un po' più complesso adesso lo vediamo adesso se voglio mettere il mio il mio edificio su questo terreno posso andare su planimetria e decidere quale è il scusate il building pad perché non so come si chiama da voi comunque il terreno piano di fondazione ok il terreno dove si posiziona questo questo edificio che praticamente posso creare una linea che è l'outline o diciamo il limite di questo edificio ok 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 e lui mi lo scava secondo questo ok allora questo mi l'ha posizionato sullo 0 se io vado su una vista frontale e lo posiziono lo sposto in basso di una certa quota vado in 3D vedete mi ha scavato questo terreno per per mettere in fiamma la mia il mio edificio ok ok